Una città intera truffata da questa sindaca, la paladina dell'etica e della moralità, che sposta assi politici ignorando e deridendo i cittadini che l'hanno votata. Esordisce così il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Ugo Tozzi, sulla nomina fresca di giornata di Davide Bruno, quale membro della giunta cittadina. Persona sicuramente per bene, per carità, prosegue il dottore Tozzi, ma di sicuro espressione forte di sinistra, di quella sinistra bocciata, sonoramente alle scorse amministrative e che adesso con un disegno ben preciso rientra alla porta di servizio al governo della città. La francese deve, spero, ne sia capace, dare delle spiegazioni alla città, deve spiegare perché, eletta dal popolo e con i voti del centro-destra tutto, governa con la sinistra e non lo fa nemmeno più velatamente, nemmeno col ritegno che dovrebbe avere un primo cittadino. Per Tozzi, il tempo dell'amministrazione francese è giunto al termine, non la vuole più il popolo e non la governa più la politica. Adesso basta. Per Alessio Cairone, capogruppo Battipaglia Libera. Con la nomine giunta di Davide Bruno si è chiuso il cerchio. Il tempo è gallantuomo ed è giusto fare un po' di chiarezza. È stato eletto segretario cittadino del PD, ma durante il suo mandato ha raggiunto un risultato inaspettato, la distruzione di un partito, a quei tempi al 28% a livello nazionale. Nel 2016, a ballottaggio delle elezioni cittadini, contribuisce alla vittoria dell'attuale amministrazione, facendo dichiarazioni di voto libero a tutti gli iscritti al partito, nonostante la federazione si fosse schierata con il candidato civico Gerardo Motta. Un'ultima precisazione. Nel 2016, per settimane, grazie all'ex segretario cittadino del PD, sono stato quotidianamente sui giornali, solo perché in contrapposizione alla mia decisione di candidarmi contro il PD, nel quale non mi ci rispecchiavo. Dopo questa ennesima sconvolgente nomina, non posso che continuare a rimanere con onestà all'opposizione di questa inquarente amministrazione.